Innanzitutto ringrazio chi oggi è venuto qui a farci visita per la nuova riapertura della stagione 2015. Un ringraziamento particolare lo devo fare a questo grande uomo, noi siamo riusciti a portare Beppo Tonno a Borgo Ricco in Gelatoque e per me questa è un grande ricordo. Grazie a tutti. Non c'è gioia più grande nella vita di essere gioia per gli altri. Io spero in quegli cinque minuti di reggirà con un po' di gioia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.